Finisce in perfetta parità il derby toscano tra Fiorentina e Empoli per 1-1 e dall'altra parte a Salerno la Lazio sbanca 2-0 con la doppietta di Cire Immobile e un rigore sbagliato nel finale anche da Luis Alberto perché Cire Immobile è già uscito perché ovviamente se no l'avrebbe tirato lui avrebbe magari chissà cercato anche la tripletta personale Immobile che comunque anche calciato il rigore è trasformato. Ma la Lazio che sicuramente prende tre punti importanti per quanto riguarda la classifica partiamo dal derby partiamo dal derby una Fiorentina che ho visto molto molto bene soprattutto nel secondo tempo quando doveva rincorrere il risultato quando era già sotto il risultato mentre l'Empoli l'ho vista molto meglio nel primo perché nel primo tempo quando ho risolto la perfetta parità ho visto meglio l'Empoli in campo che la Fiorentina deve essere sincero Poi Caputo ha fatto scoprire una buona partita lì davanti anche lo stesso Luperto dietro era ovunque La Fiorentina non mi ha convinto tanto è vero che è stato annuato un gol a Baracca in fuorigioco però c'era anche secondo me carica sul portiere Vicario Sempre Baracca ha avuto un'altra occasione se non sbaglio sempre tramite se non sbaglio un'altra carica sul portiere che quest'abito le cariche sul portiere non le fischiava oggi Mentre l'Empoli comunque ha avuto le sue occasioni ha avuto il gol molto bello questa palla in verticale per Caputo che poi fa la sponda subito a fianco al suo compagno Cambiaghi che tira e batte Terracciano Terracciano che tra l'altro ha fatto un buon salvataggio in uscita su un giocatore dell'Empoli e Caputo che poi alla fine aveva trovato anche il gol però tutto su assist di Cambiaghi Che se vogliamo aveva ricambiato il favore per prima solo che tutto viene anche in questo caso annullato per fuorigioco Però al primo tempo si chiude su 1-0 per l'Empoli partita secondo me dominata dall'Empoli al primo tempo perché è molto meglio messa in campo Giocava molto più velocemente di prima queste cose qui Nel secondo tempo la Fiorentina ovvio deve provare a pareggiare e attacca a mettere dentro Rodò L'italiano mette dentro i coneggia, gente che spinge sulle fasce e poi ha una certa Burrento con Buonaventura Jovic cambiato per Cabral perché Jovic ha avuto qualche casoncina di testa però questa volta la porta non è in quadra A differenza in Europa che comunque in Europa Jovic è uno che segna molto visto che è il capogadone della conference E quindi Burrento-Cabral che poi si rivela giusta come scelta perché Cabral è quello che fa il gol dell'1-1 Ma la Fiorentina aveva già spinto tanto, perde anche Milenkovic per l'infortunio Per me è importante come un infortunio con Milenkovic quindi una grave perdita Spinge e lo fa spesso e volentieri con Martínez Quarta soprattutto perché Martínez Quarta ha avuto un colpo di testa su un calcio d'angolo Dove Baldinelli la salva sulla linea perché Vicario li era battuto Sempre Martínez Quarta poi tipo in acrobazia specie tipo dalla Karate Kid ha fatto un tiro Vicario anche lì ha fatto una parata veramente molto molto importante Martínez Quarta che poi nel finale di testa anche lì fuori di un metro se vogliamo E poi è arrivato il gol, è arrivato il gol della Fiorentina su un'azione insistita Buonaventura da questa palla a Dodò che crossa un cross un po' strano Infatti Vicario si fa superare dal pallone Palla che si stampa sulla traversa e una volta che la palla si stampa sulla traversa va in zona di Cabral Che è lì pronto, bravo, svelto a segnare col colpo di testa e a fare l'1-1 Cabral che nel finale ha anche un'altra occasione perché c'è questa palla messa alla sua terra al centro Vedi proprio Cabral che con l'esterno, con l'esterno si può dire Dà la botta al pallone per mandarlo in porta E Vicario anche lì con i riflessi comunque fa un paratone veramente assurdo Quindi Guglielmo Vicario si dimostra comunque una garanzia in porta Si dimostra un portiere che molte volte due o tre volte li salva E voi mi direte, ah il portiere è fatto per parlare, ci mancherebbe altro Ma Vicario fa delle cose che certi portieri non fanno È veramente un talento importante E quindi alla fine un tempo per uno, per come la vedo io Un tempo per uno, meglio l'Empoli nel primo tempo, meglio la Fiorentina nel secondo E alla fine direi che è un pareggio giusto, un pareggio che ci può stare Ovvio a livello di classifica un punto a Firenze presa dall'Empoli va più che bene Perché poi alla fine gli obiettivi dell'Empoli sono quelli di salvarsi Anche se si fila la classifica l'Empoli è molto più avanti della Fiorentina in questo momento Un punto invece fatto dalla Fiorentina a Franchi È un punto che non ti cambia nulla la classifica Ragazzi l'anno scorso la Fiorentina ricordiamoci privata a settima Infatti non a caso quest'anno si trova in conference Ed è quasi praticamente già passato i sedicesimi Perché a me è 4-0 a Braga, penso che la Fiorentina sia ormai agli ottavi E per gli obiettivi che ha la Fiorentina La classifica non va bene, questo pareggio non va bene Per carità la ripresa, qui trovi in stretto il punto Però se tu vuoi vedere poi la realtà dei fatti, non va bene Passiamo invece alla Lazio La Lazio che secondo me a Salernitana ha fatto la sua sporca partita La Salernitana ha avuto il cambio dell'allenatore Io onestamente Sosa non è che l'ho visto Ovvio deve ancora lavorare, è appena arrivato Però la Salernitana non l'ho vista tanto cambiata Forse un po' più di pressing nel primo tempo Ha avuto qualche occasione Piontek E anche lo stesso Candreva Però parata abbastanza facili Per Provedel Mentre la Lazio comunque ha creato qualcosina Se vogliamo Con Immobile È arrivato al tiro, sempre comunque bravo a parare Ci ha provato anche Pedro Nel finale del primo tempo Mi ricordo anche l'occasione più grande Che se non sbaglio è il colpo di tassa di Vessino Che la palla esce fuori di poco Comunque qualcosina in più secondo me Avvio avviso la Lazio ha creato Non tanto ma ha creato Infatti poi il primo tempo si chiude sullo 0-0 Il secondo tempo invece ragazzi Solo Lazio praticamente Solo Lazio Immobile ha avuto la sua primavera giocata importante Alla fine Che dire Immobile è sempre quel giocatore Che se sta bene Fa la differenza ragazzi Fa assolutamente la differenza Si procura anche tra l'altro Lui un rigore da solo Anche se lì secondo me C'è un pasticcio No? Se vogliamo Tra Pirola E appunto Come posso dire Il portiere Perché il primo gol è molto bello Molto bello Sventagliata di Non mi ricordo Che ha fatto il passaggio a Marusic Però comunque Bel passaggio per Marusic Che poi Va sul fondo Mette un bel pallone dentro E Immobile taglia bene A favore di 1-0 Un classico Tapping vincente Che lì uno come ci fide Immobile Non può sbagliare E trova il gol appunto Del Del 1-0 E il secondo gol ragazzi Si vedi questa palla lunga C'è Pirola Che è in vantaggio Ma in vantaggio Di non so quanto Su Immobile E vedi che Cerca di coprire la palla Dove poi arriva Seppi In uscita Che avrebbe dovuto prenderla Immobile Furbo e lesto Comunque si butta Su quel pallone E alla fine Riesce comunque A anticipare Sia Pirola E a toccare il pallone Prima che lo tocchi Seppi Seppi travolge Immobile Questo per me È un calcio di rigore sacrosanto Immobile poi va dal dischetto Lo trasforma Seppi indovina l'angolo E forse la sfiora anche Con la palla Ma il rigore di Immobile È molto forte È preciso Non sbaglia 2-0 Poi arriva anche il terzo Arriva anche il secondo rigore Che avrebbe potuto garantire Il terzo gol Alla Lazio Il rigore che già Ad esempio per me Quello non c'è Perché ho visto più e più volte Quell'immagine E non c'è proprio Un incrocio di gambe Sembra che il cancelliere Alla fine si inciampi da solo Deve essere onesto Va Luisa Alberto Luisa Alberto Sbaglia Seppi la para Poi la para Tona Luisa Alberto Che di calcia Ma non inquadra la porta Quindi il rigore che per me non c'era Mi avviso Il rigore che poi alla fine Viene sbagliato Perché la maggior parte delle volte Quando ti danno il rigore Che non c'è Poi un po' il destino Fate un po' voi Non sempre si segna Anzi spesso e volentieri Si sbaglia È un po' come Con il sbagliato Con il subito Rigore inventato Rigore che sbagli Ecco Per me è una questione La penso io così Per me non era mai rigore Il terzo Il secondo rigore Il primo invece sì Il primo sì E ripeto C'è la dormita Generale Della difesa sanitana Tra Pirola E E sepe Nel finale viene anche espulso Bron Per qualche potenza di troppo Quindi Mandato negli spogliatoi Sanitana che deve lavorare tanto Perché con un Verona in forma così Ora sanitana e Spezia Rischiano Rischiano Veramente tanto Perché Verona sta risalendo la china piano piano Può essere Un pericolo Lazio che trova tre punti importanti Perché l'Atalanta ha perso E comunque rimane alla scia Di Milane E Inter Aspettando Stasera Appunto Alle 20.45 La Roma Niente ragazzi Io direi che il video Può finire qua Quindi se vi è piaciuto Facciate un bel like Mi raccomando Commentate qui sotto i commenti Fatevi sapere un po' voi Cosa ne pensate di queste due partite qua Ovvero tra Fiorentina E Empoli E Salernità La Lazio E di qui per la vostra Che sono curioso Quest'altro nei commenti E soprattutto ragazzi Anche se vi fa piacere Iscrizione al canale Che è fondamentale Non costa nulla Cioè per me Voglio dire Veramente tanto Il vostro supporto Lo sapete Quindi se lo fate Vi ringrazio di cuore Perché è gratuita Non costa nulla L'iscrizione Quindi mi supportate anche così E condividete i video con i vostri Non ci iscrivete anche loro E attivate la campione La notifica Così non vedete i prossimi video Che usciranno Anche dopo post partita Juve E poi post partita Roma Link in descrizione Anche da Bari Fusi Channel E link in descrizione Anche dal mio profilo Twitter Qui da me che è tutto Bella